Iscriversi al Junior Training perché hai la possibilità di riscoprire la famiglia, di riscoprire le capacità che tu hai per educare tuo figlio in quanto genitore. Ogni relazione si basa e si fonda sulle capacità empatiche, sono quelle che ti permettono di raggiungere tuo figlio e di fare in modo che tuo figlio ti raggiunga per orientarlo nella vita. L'idea è quella di educare me stesso come genitore e mio figlio a un'educazione intenzionale. Bombardati da molti riferimenti nella società è importante che il genitore sappia selezionare per il proprio figlio gli stimoli e le occasioni di apprendimento e di educazione. Le attività sono diverse e vengono proposte prendendo in considerazione l'idea che l'essere umano è tricelebrale. Quindi ci sono attività che vanno a stimolare e orientare l'intelligenza motoria, quelle più dedicate all'intelligenza emotiva e quelle più dedicate all'intelligenza razionale. Quindi si va dai laboratori di psicomotricità, si va dai laboratori musicali, ai laboratori di attività creative, ai laboratori di lingua. I genitori portano a casa uno sguardo diverso e molto più intenso e reale sul proprio figlio. I figli invece mi dicono che la relazione con i loro genitori è diventata più profonda e più intensa. Direi che si portano a casa sia i figli sia i genitori un ascolto diverso, più profondo, che rimane negli anni. Venite, vi aspettiamo. C'è uno staff meraviglioso, dei family trainer che vi accoglieranno, con i quali farete un percorso interessante e intenso. Vi aspettiamo alla quindicesima edizione.